ciao a tutti benvenuti in gameplay è rimasto che avevo fatto la missione della raccolta delle cinque nebbiefoglie missione a grado basso e mi ha fermato qui quindi proseguo in questa si tratta di cacciarebbe due mostri differenti buonasera in realtà mi è già successa una zona così ecco qua ragazzi cacciare un drone e un pronti ragazzi le mie coccinelline vado subito di qua forza ragazzi la mossa la merda 5 tante euro così e e e la idam mi cazzo mi è partito il dito aiuto mi è incastratelo il tipo eh dai vieni qua è scarso mi va aiuto nooo mi sono messo anche una cosa apposta contro la paralisi non è servito un tubo aiuto male eh 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 dove cazzo vai a vedere strunz ma proprio per questo ho scelto quest'arma forza ragazzi che che è che che fa adesso ti sticco sta già a morir No vabbè ragazzi siete grandi l'avete colpito No vabbè l'avete colpito a fine zona Siete fantastici Eeeh va bien cool Aiuto non capisco più in piazza No eh non posso morire adesso Che cazzo Aiuto Merda Ragazzi Eh si pochi Ma sta tardi eh Già non hai dato il suo stronzo A lavarci Che deboli che sono i signorini Abbiamo passato gli stessi un po' di più E invece Siete che adesso che fa? Massima potenza Ha 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 Ma andate a fanculo voi gempray Tanto che ho fatto ragazzi non è che cercate di Eh 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 Bene dove si va qua? Yahoo Cazzo la frenesia mi attacca Merda E allora vorrei dire che Che aspetto che la frenesia finisca È l'unica È l'unica Vediamo un po' se signorini Sì 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 Guardatelo là Un gendromo spiaccicato È anche sparito Vediamo se è stato a fare qualche ezzo O è già in giro Probabilmente è già in giro Vabbè Allora non resta che Andarlo A cercare Tanto becchetto un po' qua Diciamo così Non vado a prendere tutto Sennò qua Mi allungo non di poco Gempray Non rompe il cazzo eh Boh Lasciate pace La cacciatrice Heather Che se si incazza Vi fa dare una brutta fine Signor Kezu Maledetto schifoso Che ti odio a morte Do cazzo stai? E date buone voi Banahara Non sono qui per voi Ah no se Come ho detto Stavo pensando al All'obiettivo secondario Ma l'ho già soddisfatto Sto giro Sto giro non posso smuvi scatole Perché sono Sono sotto di me Quindi Adios Ok Eh no Io volevo andare Yahoo No Ma porca miseria Mi volevo andare Nella zona numero 1 Grazie E dopo Visto che qualche zona non c'è Voglio andare Nella zona numero 7 Si Upt not E' stata buona Che nessuno mi fa niente Per il momento Adesso Prendiamo questa E' via Sieto qua Kezu? Non mi pare No Ma vai a cagare Che già vai Ok Non vedo Kezu In vista Che cazzo Vi odio a morte Vi odio a morte Bella cagava Niente da fare Siete buona che vuoi Qua sono già arrivato Andò Kezu Stato Kezu Da merda Che due palle Cercare i mostri All'infinito Ma dice che sono qua Anzi Anzi No ho sbagliato Vado direttamente qua Forse sei qua Che di solito va nella zona numero 8 Eccolo Questo deve essere Schifoso Si Kezu Su me Adesso ti foto Eccolo Adesso si mette urlar Sicuro Aiuto Porche miseria Adesso ti salto d'orso Ti stecco Ci ho provato Non segui Che parei va Se mi sono messo la difesa Ma E' durato poco Eccolo Cosa cazzo Speri di fare Kezu Aiuto Ma male Capis capis Aiuto Sto cazzo Non faccio mai Ti invocavarmi dei coglioni Valedetto che zo di merda Bravo Proprio quello che volevo che tu facessi Eheheh Proprio per questo motivo Ti spacco la schiena Ti spacco la schiena Te la faccio a pezzi E nu te che tenti di liberarti Ti divinque come un bruco Perché io tanto ti faccio fuori Eheheh Testa ben Testa ben Massima potenza E adesso è diventa frenetico Sto stronzo Eccolo Sentite che adesso stupido che fa Eeeeeh Eeeh Eheheh Vai monagate Aiuto Eeeh Eeeeeh Eeeh Vai monagate Eeeh aiuto ma vai mon anche te tutta la vacca aiuto 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 come ti permetti andarti in questa maniera? perché sei stronza? tanto ti secco da un cazzo vai adesso ah Tony dove è morto il jambrom anzi Tony vai nessun problema ma vai ragazzi basta basta lo cancro eeeh vale eh? eeeh si beh fly down figlio di androcchia per non dire altro mastarda se è proprio un figlio di puttana fattelo dire fattelo dire BAM 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 Fattore di secco eeeh massima potenza meraviglia della meraviglia fatto fuori anche il chezzo dei miei stivali Moschietta non sei la benvenuta TAN TANAN Ti ho seccato anche del depisso La colgo qua con molta fiscità Erba al fuoco non posso raccoglierla Ma se io tolgo questa sì Yeah Very 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 good Very good TAN 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 Allora Pelle vizza Pelle vizza Pelle vizza Gempa e pelle Mosso mostro medio Molto misterioso Molto misterioso Molto misterioso Sacca paralisi Pelle vizza Allora la cassa premio Gempa e zanna E mento frenetico Allora la cassa oggetti Tu pacchi niente Tu robbi il ferro Raccolto E l'osso misterioso Vediamo un po' Stai via qua Questo e il resto vendolo 700 zenni per 2 6300 zenni premio primario Premio secondario 600 zenni Saldo oggetti 50 zenni Totale 8150 zenni Io ho 20 punti Premio speciale 990 punti Totale 1010 Ok Totale Punto denaro 58800 zenni E punti caravane 1100 Eh 1010 scusate Divelo di Robin 19 Ah Fantastico Bene 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 E' andato veramente Molto bene Muoi bene Muoi bene Muoi bene Muoi bene Ok Ok adesso Scusate ma qua A volte mi scende il tutto Allora Salve tendente Allora Salve tendente Manca massa Sempre questa ragazzi Eh vabbè Non va bene Non va bene Ok Bene Ok Allora Mi libero un po' ragazzi Ok Bene Ok Vediamo un po' loro Ma ecco a destra che Bene Ce la piccola Poggi Che da un po' di coccoline poi Per oggi Finisce qui Eh vabbè Bene Bene ragazzi Questo è un po' di felice qui E ci vediamo al prossimo Ciao a tutti